Oggi mi aspetto di ritrovare nel Ministro il mio collega, il collega sindaco che conosce le nostre problematiche e che quindi mi auguro si prenda l'impegno di appoggiarci. In questi quattro mesi in cui è stato Ministro purtroppo non è riuscito a fare molto. Credo che ci voglia tempo per le grandi riforme, ci voglia soprattutto tempo per capire dall'altra parte dello scranno come si risolvono i problemi nostri. Però mi auguro che Del Rio, conscio delle nostre problematiche, patto di stabilità, unione dei comuni soprattutto le problematiche calienti per i piccoli comuni, sia in grado di darci oggi risposte e domani fatti.